Musica Terza e ultima parte di Scienze del Lavoro Tocchiamo un tema che è di grande sensibilità Tanti si riempiono la bocca di amministratori locali su quanto sia importante accudire i nostri anziani accudire i nostri nonni tanto danno i nostri anziani a quello che è il welfare se non ci fossero gli anziani oggi il welfare dell'Italia sarebbe saltato da molti e molti anni a volte addirittura in questo momento di grande disoccupazione gli anziani riescono a dare anche un minimo supporto al reddito delle famiglie ecco abbiamo un caso particolare però pur dando queste persone tanto e qui andiamo sul territorio di Roma in realtà mi sembra che qualcuno non li voglia far stare in un luogo almeno decente sistemato, aggiustato parliamo dei centri anziani Pierino Emili che sta nella collina della pace in borgata Finocchio parliamo del settore Casilina quindi parliamo un po' di Roma Est e abbiamo per parlare di questo un po' di rappresentanti della politica e i diretti interessati perché abbiamo qui il presidente Enrico Di Pietro ho sbagliato il presidente Franco Grimolizzi del centro anziani Pierino Emili invece Enrico Di Pietro è vicepresidente dei centri anziani di Roma quindi nel coordinamento dei centri anziani di Roma insieme a loro abbiamo l'onorevole Antonella Origemma consigliere regionale della Regione Nazio e due rappresentanti della politica romana e territoriale abbiamo Andrea Sbardella che è il segretario romano della democrazia cristiana e abbiamo Damiano Zaccaretti che è invece il coordinatore per il municipio sesto di Forza Italia e quindi sono in realtà politiche che si stanno interessando di questa vicenda ecco facciamola raccontare al dietro interessato Grimolizzi mi racconti cos'è che non va in questo centro anziani cioè chi è che non vi vuole dentro il centro anziani alla collina della pace? Io sono qui oggi per denunciare una grossa vergogna perpetrata a mio modo di vedere dalla giunta pentastellata dei 5 stelle dal suo presidente Romanella a tutta la giunta di 5 stelle che ha annullato il 16 marzo scorso una delibera fatta dalla precedente giunta di centro-sinistra in cui quella giunta ci assegnava il centro anziani dei locali del casaletto della collina della pace loro hanno annullato questa delibera volendoci ricacciare nel vecchio centro il vecchio centro che per noi è fattiscente poco comodo per gli anziani non molto capiente meno capiente di questo in una situazione in una realtà di strada dove è molto stretto scomodo e gli anziani che venivano accompagnati dai propri familiari facevano fatica a parcheggiare se non litigare con le persone abitanti in quella zona che facevano che davano fastidio secondo loro davano fastidio quindi il presidente del municipio Sesto insediato da giugno del 2016 in rappresentanza a guidare l'amministrazione del municipio Sesto in realtà quando è venuto a sapere che c'erano centro anziani alla collina della pace in realtà il primo impatto con voi è stato dirvi dovete tornare esattamente dove eravate prima cioè avete tentato un dialogo con questo presidente con il nostro Romanelli noi abbiamo chiesto diverse volte il dialogo e abbiamo avuto all'inizio il mio predecessore che oltre a essere il vicepresidente del coordinamento cittadini è un mio consigliere all'interno del centro ed è il mio predecessore in quanto presidente prima di me per un decennio del centro e sociale vi ha ricevuto avete parlato con questo Romanelli? ci ha ricevuti ma non ha mai espresso chiaramente le sue intenzioni erano occulte ultimamente abbiamo scoperto che con i sotterfugi messi d'accordo con un'associazione privata hanno fatto le tre commissioni congiunte sociale patrimonio e scuola una una votazione contraria al centro anziale della collina della pace e poi è stata fatta la delibera di giunta in ultimo il 16 di marzo la delibera di consiglio municipale che eliminava la delibera di consiglio municipale del 18 febbraio fatta dalla precedente giunta di centro-sinestra con presidente Scipioni che era stata votata il quale presidente Scipioni ricevuto le chiavi dal patrimonio con un con un verbale del patrimonio il quale patrimonio le aveva ricevute dal dipartimento delle periferie il dipartimento del patrimonio passa in consegna a questo manufatto al presidente del municipio con lo scopo per darlo a Cedanziani perché questa storia parte la cronistoria parte da lontano parte dal prima dal mio predecessore che è constatato la non sufficienza dei locali non idonei per contenere allora 6-700 iscritti che noi vantiamo di avere anche se ci dicono di meno vantiamo di avere con gli iscritti che si iscrivono nuovi iscritti si rinnovano nel vecchio centro cominciavano a diminuire però quando erano tanti iscritti il mio predecessore ha formulato al municipio l'esigenza di allargarsi cioè di avere una struttura che fosse in migliori condizioni in realtà c'è stato un momento in cui il patrimonio centrale ha potuto avere le strutture da mettere a disposizione l'ha data al municipio per darla al centro anziani il centro anziani gli è stata consegnata questa struttura ma oggi non sembra più nei progetti di questa amministrazione quello che lei dice noi abbiamo anche acquisito un po' di documenti che quindi possiamo fare vedere anche velocemente di libere di assegnazione quindi in realtà non è che stiamo chiacchierando cioè qui sono documenti reali realmente ci sono stati tutti gli atti che erano che necessitavano per il raggiungimento e quindi per l'assegnazione di questo centro anziani e quindi non comprendiamo voglio domandare a Enrico Di Pietro del coordinamento dei centri anziani quindi di Roma ecco mi spieghi un po' lei approvando su questo a dare un sollecito anche al sindaco di Roma ha scritto anche al sindaco che c'è Romanella un suo presidente di un municipio che in realtà sta togliendo un diritto acquisito a un centro anziani che funziona funzionante nel comune di Roma beh in realtà noi abbiamo tentato sia il presidente Cremolizzi del centro Pierino Emili sia io con il mio presidente del coordinamento cittadino abbiamo tentato dei contatti e in modo particolare con l'assessora alle politiche sociali per avere un colloquio e per poter rappresentare questo problema chiarire qualcosa circa questa questa situazione molto antipatica molto impopolare che si sta verificando non siamo riusciti a tutt'oggi avere un incontro con l'assessora non so se gli impegni che ha perché ha molti incarichi hanno fatto sì che questo non fosse un problema di priorità circa questo incontro che dovevamo fare certo è che l'unica cosa che io sono riuscito ad avere è stato un incontro con il presidente del nostro municipio e in contemporanea con il presidente c'era anche la vice presidente e assessora per le politiche sociali del stesso municipio e c'era anche la presidente della commissione per le politiche sociali del municipio stesso in quell'incontro io esternai dei dubbi o dei timori circa il futuro dei centri anziani perché serpeggiavano delle voci circa il futuro non proprio roseo per questi centri stessi il presidente mi rassicurò ci rassicurò che non solo loro non intendevano riservare un futuro meno positivo per i centri anziani ma addirittura volevano rilanciare i centri stessi al che io disse meno male sono soddisfatto di questa dopo la delibera negativa ci avete riparlato? dopo non è stato più possibile è diventato l'idea che ci dà è che questo non siamo riusciti ad avere ulteriori incontri con il presidente questa amministrazione a 5 stelle sia sul piano comunale che sul piano del municipio non dialoghi con i cittadini non cerchi un dialogo per risolvere i problemi per capire certamente no eppure vi faccio vedere adesso a voi un video la sindaca Raggi il sindaco Raggi gira a Roma partecipa all'inaugurazione dei centri anziani e dichiara che i centri anziani sono un punto dove offrire servizi vediamo il contributo video siamo adesso qui a inaugurare un altro punto Roma facile siamo in un centro anziani e per noi è estremamente importante poter dislocare sul territorio dove ci sono vari luoghi di aggregazione questi punti che servono proprio per avvicinare di più i cittadini all'amministrazione sfruttando le nuove tecnologie spesso le statistiche ci dicono che circa un italiano su quattro non accede a internet per il divario digitale quindi spesso trovare questi luoghi di aggregazione consente magari di andare più vicino al cuore del problema e quindi eccoci qui signor di nuovo per me grazie ciao grazie un applauso la struttura non è grazie 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 nel voglio saluto di benvenuto a nome mio del comitato di gestione dei soci desideroso ringraziarla per aver portato a centroanziani i valli con catoro l'ai pai e aver dotato lo stesso del punto Roma facile che naturalmente sarà poi utilizzato anche dai cittadini del quartiere tanti ringraziamenti vanno uno all'assessore Clavia Marzano e su questo progetto si sta molto spendendo. Un orico la origemma, ho l'impressione che il Movimento 5 Stelle non abbia un rapporto eccezionale con il mondo degli anziani, in realtà se sentiamo questa storia che ci viene dal territorio di Borgata Finocchio e poi vediamo anche l'atteggiamento che aveva il sindaco nel andare a inaugurare questo centro anziani a Conca d'Oro, in realtà forse non ritengono il loro elettorato di riferimento, quello del mondo degli anziani, li scartano a prescindere che siccome non li possono convincere col web, manipolare col social, pensano che non riescono a costruire un elettorato su questa fascia sociale? Io vorrei distinguere in due parti il mio intervento, la prima nel concordare pienamente con quanto detto dalla sindaco o sindaca Raggi nell'intervento iniziale che avete mandato in onda nella trasmissione perché penso effettivamente che gli anziani svolgano un ruolo primario all'interno della nostra comunità, della nostra società e della nostra città perché sono quel trait d'union tra i giovani che avanzano e l'esperienza che loro hanno maturato nella loro vita lavorativa, nella loro vita familiare e penso che siccome l'esperienza spesso nasce dalla somma delle brutte esperienze che si hanno, loro sicuramente hanno un bagaglio da portare ai giovani che avanzano nel mondo del lavoro, nel mondo della scuola che è fondamentale dirimente. Come secondo me resto seriamente preoccupato del fatto che spesso si dicono delle cose che poi non corrispondono in azioni e gesti, quindi io preferisco pensare che il pensiero del sindaco non sia stato sposato dall'amministrazione del sesto municipio e questo purtroppo è quello che continua ad allontanare la gente dalla politica. L'altro aspetto che voglio sottolineare è un aspetto più di natura tecnica perché io non penso che una delibera, anzi un'ordinanza del prefetto Tronca col quale se non ho capito male è stato spostato, è stato consegnato l'immobile dal comune alla competenza del municipio e poi successivamente una delibera del municipio possa essere annullata se non con validi motivi, ci sarà un motivo per il quale è stata annullata questa delibera, non so se è un motivo tecnico, anche perché se il motivo di annullamento è questa delibera non capisco perché questo locale non va bene per il centro anziani ma vada bene per qualche altra struttura. Per carità è importante anche questa, non so parlavano di un centro culturale, di un'associazione o quant'altro, più attività sociali ci sono e più soprattutto nelle zone periferiche della nostra città si riesce a svolgere un'attività sociale di incontro, spesso questi quartieri sono dei quartieri dormitorio dove la gente si alza per andare al lavoro, ritorna per fare la spesa e poi tornare a casa per andare a dormire. Non ci sono attività di distrazione ma soprattutto attività di aggregazione che tolgono i ragazzi dalla strada, da posti che spesso non danno sicuramente buoni consigli come quello dei centri sociali anziani, perché non è un caso che il Comune di Roma nella riforma che fu votata dal Consiglio Comunale determinò un nuovo regolamento chiamando non più centri anziani ma centro sociale anziani. Quella parola sociale non penso sia stata messa così per caso. È in questo contesto che secondo me l'amministrazione municipale dovrebbe svolgere quel ruolo di rimente per cercare di trovare i giusti spazi al centro sociale anziani che li ha maturati e conquistati come diceva il Presidente dopo numerose battaglie nelle tante amministrazioni che si sono succedute dal centro sinistra al centro destra, anche l'amministrazione del prefetto Tronca che ha governato la città per qualche mese. E oggi vedere una delibera che annulla un atto per riportarli nelle condizioni precedenti perché si parlano di 600 iscritti 145 metri quadrati, le immagini, io non penso verranno tutti e 600 insieme ma basta avere 100 persone che in 145 metri quadrati un sesto degli iscritti immagino normalmente le attività che si svolgono essendo un assiduo frequentatore delle partite dei centri anziani, il sabato ci sarà il ballo quindi ci sarà maggiore aggregazione comprensivo della domenica e qualche giorno della settimana è praticamente insufficiente. Si violano norme sanitarie, si viola di tutto quindi trovare un locale che è leggermente più grande perché poi non parliamo di metrature enormi sarà di 200 metri quadrati che forse più consono con il giardino o con qualcosa a svolgere questa attività, non comprendo il motivo per il quale ci sia un annullamento della delibera senza una motivazione tecnica perché non posso osare immaginare che venga annullata una delibera soltanto per cercare di accontentare qualcuno, qualche promessa elettorale. Non voglio immaginarlo e onestamente sarebbe anche scorretto, anzi l'invito che rivolgo alla trasmissione è di fare una trasmissione invitando anche l'amministrazione che oggi governa il municipio perché penso forse che i cittadini come le persone abbiano perlomeno diritto ad una risposta, la risposta può essere anche negativa però penso che continuarsi a nascondere, io vedevo il video, immagino che il video il sindaco Raggi ultimamente ne fa soltanto sui social network, non ha la possibilità e non dà la possibilità di avere un contraddittorio con altri però penso che perlomeno a livello municipale ci sia la possibilità di invitare un assessore, di invitare il presidente del municipio visto che non vogliono parlare con i responsabili del centro anziani almeno venire in trasmissione per spiegarci il motivo, può darsi anche che il motivo che hanno spinto a questa cosa che io tuttora non comprendo perché non si può cercare di agevolare un associazionismo a discapito di un altro associazionismo, sono delle realtà che possono convivere nel territorio, questa associazione non ha la sede e si potrebbe spostare nella sede prima lasciata dal centro anziani vuota, è una questione di buon senso, qui nessuno è contro qualcuno però l'atteggiamento che ha questa amministrazione del municipio è esattamente quello di togliere qualcosa a qualcuno della conquista del tempo a vantaggio di qualcun altro, se questo qualcun altro non ha locali a disposizione secondo me il municipio può tramite avviso pubblico perché di realtà di associazionismo ce ne sono tantissime in quel quartiere, tramite un avviso pubblico destinare i locali che erano prima a disposizione del centro anziani e destinarli alle attività di ricreazione, di associazionismo e di aggregazione del territorio. Andrea Sbardella, segretario romano della democrazia cristiana, lei ha impattato con questa problematica, ha avvertito il malessere che c'era su questo territorio, ha visto molti anziani che venivano a lamentarsi, ha raccolto questa problematica e come li ha sentiti preoccupati? Ma facciamo, prima che ti rispondo faccio una premessa, il municipio Sesto è un municipio molto popoloso, 35 mila abitanti circa e gli anziani sono circa 7, quartiere Finocchio scusate, il quartiere Finocchio, perdonatemi, ha 35 mila abitanti, circa 7 mila sono gli anziani che abitano sul posto, quindi hanno un potenziale per eleggersi un Presidente da solo e quindi sembra proprio un autogol fatto dall'Aggiunta 5 Stelle. Quello che abbiamo raccolto invece, vi rispondo alla domanda, è sgomento, è rabbia da parte dei cittadini, perché come diceva poco anzi Antonello, come si può togliere per dare a qualcuno, per fare un favore, a noi quello che è sembrato è stato proprio questa, una marchetta elettorale quella che ci è sembrata a noi e quindi siamo andati subito a difesa di questi anziani, di questo centro anziani, ma la cosa che mi ha lasciato poi contento è stata che tutti gli schieramenti politici sono contro questa cosa qui, quindi non è un disegno politico sinistra, destra, centro, ma tutti quanti togliendo il 5 Stelle si sono schierati a favore del centro anziani, perché sembra proprio un'assurdità, una cosa che non sta né in cielo né in terra, che oggigiorno ci sono loro, togliamo per darla a un altro, per poi se andiamo a vedere nella collina… Non forse arriverà la forza pubblica per cacciarli? Sì, questo è quello che si prevede, anche perché loro hanno l'intenzione di non muoversi e noi comunque sia saremo lì quel giorno a sostenerli, sempre pacificamente, perché non siamo contro la violenza, questo c'è da dirlo, però saremo pronti ad essere con loro lì, a dire no, no a questo scempio, ma quello che voglio domandare al Presidente Romanella è che si esponesse proprio a livello pubblico, come diceva prima l'Onorevole, viene in trasmissione e ci spiega che cosa vuole fare lì dentro, deve dichiararlo a livello pubblico, che cosa ci vuoi fare in questi locali, per quale motivo tu arrivi a una decisione così forte, a togliere un centro anziani di oltre 600 iscritti che funziona, che fa un lavoro sociale importantissimo sul territorio, per mettere cosa? Che cosa ci vuoi mettere lì? Che cosa ci vuoi fare? Esponi lì, esponi, almeno hai il coraggio di esponersi. Assolutamente. Zaccaretti, si può fare ancora qualcosa? Il Consiglio Municipale, cosa si potrebbe riuscire a fare per smuovere l'acqua? Quali sono gli strumenti politici per far tornare indietro su questa decisione Romanella? Io credo intanto un forte dialogo tra loro, poi qualora in un suo dialogo non c'è modo risposta, che non ci sarà modo risposta e in quel caso andremo avanti via istituzionali, per forza. L'unica alternativa, se c'è bisogno di attivare procedure legali o quant'altro, noi siamo sul territorio, perciò combatteremo questo inconveniente a discapito di loro purtroppo. Mi sembra infatti un argomento pubblicato. Parlavamo prima con l'amico Damiano anche da fare il gazebito e raccoglieremo una petizione popolare perché c'è uno sgomento totale nella zona. Già non hanno raccolto abbastanza, se non basta ci si mettiamo anche noi di supporto. Dando un'impressione che non si vogliono occupare, cioè l'impressione che io ho, non so se voi adesso dovete tradurlo sul territorio, è che in realtà loro non vogliono mai arrivare a risolvere i problemi veri. Non vogliono trattare. Dove c'è un problema loro si girano. Sì, non vogliono trattare. Sono un po' se avessero la possibilità di mettere tutti i tappetini sopra i vari problemi. Vogliono provare a cercare di fare qualcosa di semplice, spiegarlo, lanciarlo, parlare, dire, fare. Questo non è fare politica. Però in realtà non è che loro stanno amministrando un condominio alle Seychelles, quindi da una parte con problematiche di facile risoluzione. Stanno amministrando Roma, stanno amministrando in alcuni uccipi che sono pedicerie romane molto importanti. Ecco, vedevo prima Di Pietro quando ha visto quella inaugurazione voleva commentarmi cosa voleva dirmi su quella inaugurazione. Sì, grazie. Io vedendo quel filmato dove la sindaca andava a inaugurare il nuovo centro, eccetera, sono rimasto indispettito addirittura perché mi domando, ma allora la sindaca vede le cose nei confronti della terza età in un modo e almeno per quanto riguarda il sesto municipio il presidente e la sua giunta lo vedono in un altro modo. Perché mentre vanta l'inaugurazione di un centro, benvengano altri 10, 20, 30 al mese, benvengano questi centri perché effettivamente per le persone della terza età sono una seconda casa, sono un posto dove veramente poter passare qualche minuto di meritato riposo dopo aver fatto una vita di lavoro e di sacrifici. Si è sempre detto che potrebbe diventare il nuovo welfare, no? Cioè un modo per portare i servizi gli anziani per evitare che gli anziani si debbano muovere. Roma è un disastro per la mobilità, un disastro per il traffico, un disastro per... Tante cose, se in realtà sono i servizi che vanno in conto al cittadino e non è il cittadino che deve andare a rincorrere i servizi... È indubbio che sia necessario questo. Allora dicevo, perché da una parte si plaude all'apertura di altri centri e da una parte si tenta invece di chiuderli perché questo movimento che sta facendo il nostro municipio nei confronti del centro anziani Pierino Emili è sicuramente l'anticamera della chiusura perché quando loro parlano di polivalenza non stanno con i piedi per terra. Non perché io sia contrario alla polivalenza ma perché nei centri anziani di tutta Roma esiste già questa polivalenza. Apertura al territorio esiste già in tutti i centri e in modo particolare Pierino Emili si è distinto negli anni per iniziative aperte al territorio. Non sto qui a citarne tante ma ne posso citare solo alcune. Che so, Pierino Emili ha fatto la prima e seconda mostra di pittura aperta a tutti gli artisti del territorio e anche gli artisti giovani del territorio. Ha fatto altre iniziative tipo la sfilata di moda ritirando, rispolverando i vestiti da sposa dall'anteguerra a oggi. Si fa anche servizio per tenere i bambini? Facciamo dei servizi pure aperti, facciamo un incontro, questo centro fa un incontro così chiamato nonni e nipoti e di volta in volta fa in vita le scolaresche a venire nel centro eccetera laddove le strutture lo consentano. La vecchia struttura non lo consentiva più, nella nuova struttura invece queste cose le facciamo. Quante firme avete raccolto? Qui ci sono oltre 700 firme inviate al presidente del municipio e via e mail alla sindaca Raggi. Ma a oggi siamo quasi mille, cioè la petizione è continua. E in risposte? Risposte niente. Loro asseriscono lo spazio che abbiamo noi per darlo a 0,99 anni, non ho capito questo 0,99 anni, però c'è una dichiarazione mai smentita della vicepresidente dell'associazione Collina della Pace, la quale l'ha messo su Facebook, l'ha detta in consiglio municipale quando si è stata la delibera, che vogliono aprire un bar, un bar ristoro. Cioè questo se per togliere il centro anziani agli anziani per aprire un bar ristoro è una vergogna nelle vergogne. Mi sembra, sì, delle vicinanze ce ne sono abbastanza 6 o 7. No ma poi penso che sia un atto veramente di crudeltà amministrativa, no? Di crudeltà. C'è un bar al posto centro anziani. Cioè. Adesso non so, diciamo da... Il presidente Romanella dice che siamo 300 iscritti. Io gli dico che lui è in errore perché noi siamo oltre 600 iscritti. Perché c'è questo sbalzo? Perché gli anziani, la tessera dura tre anni, si dimenticano. Noi abbiamo oltre 200 iscritti che devono rinnovare. Oggi effettivi sono 400 rotte. Però c'è questo alla fine dell'anno. Questo ricalco, questo giro. Ma non è questo il problema. Non è questo il problema. Volevo domandare una cosa però a Origemma. Ecco, lei è consigliere regionale. Certo, interrogarsi su come... Perché sicuramente il Comune di Roma qualche fondo della regione per i centri anziani lo recepisce. Andarsi a domandare Roma e i municipi di Roma come stanno utilizzando questi fondi per i centri anziani. In realtà Roma come utilizza il suo patrimonio. Perché qui mi sembra esserci dietro un caso di... Ecco, comunque di cattiva gestione, di cattiva programmazione. I fondi che la regione eroga a tutti i comuni della regione, poi in particolar modo a Roma che è la capitale, rientrano nel capitolo dei servizi sociali che vanno dall'assistenza domiciliare alle attività sociali che vengono svolte e penso in parte contribuiscano poi l'amministrazione capitolina a dare che se non sbaglio, perlomeno quando ero consigliere comunale, consegnava circa 22-23 euro per iscritto che non vengono consegnate al centro anziani ma rimangono nelle casse dell'amministrazione capitolina al Dipartimento dei Servizi Sociali dove poi il Presidente del centro anziani annualmente presenta una sorta di programma di attività da svolgere che vengono poi pagate dall'amministrazione capitolina. Io non penso che il problema sia il numero degli iscritti, sono 300, 600, 400 cambia poco. Noi abbiamo un numero di persone che normalmente frequentando queste attività sono persone che andando avanti con l'età spesso restano anche sole a casa perché hanno perso il coniuge o i figli lavorano da altre parti e trovano nel centro sociale anziani anche un motivo di esistere per mettere a disposizione degli altri la propria esperienza, la propria capacità, quello che ha maturato in una vita di sacrifici perché una persona si iscrive dopo che ha vissuto una vita familiare, una vita lavorativa e una giusta e meritata, si appresta ad affrontare una giusta e meritata vita di riposo. Ora, al di là degli aspetti tecnici e legali che poi vedranno sicuramente persone molto più preparate di me in questo aspetto, io continuo a sottolineare la mancanza di politica. Qui nessuno mette in dubbio che l'amministrazione pentastrellata ha vinto e ha vinto anche con un ottimo risultato sia l'amministrazione della città di Roma che quella del municipio. E qui si chiede soltanto di essere messi a conoscenza di quali sono gli intendimenti e gli indirizzi che vogliono portare avanti. Di sicuro non sono stati eletti per un mandato per lo spostamento cittaziani? No, ma... Governando questo municipio lo sono liberi anche di poter cambiare. Però la cosa che secondo me necessita di un rispetto anche nei confronti di queste persone è se queste persone chiedono un appuntamento per formulare delle domande, anche se bisogna dare delle risposte negative. Però non vedo per quale motivo un'amministrazione che è un'istituzione, noi parliamo di un municipio che rappresenta l'istituzione degli abitanti del sesto municipio. Se è un abitante del sesto municipio, ancora di più se è una comunità come quella del centro anziani, chiede un incontro all'assessore per sapere quali sono le sorti, qual è l'indirizzo che questa amministrazione vuole dare per il centro anziani, il municipio l'assessore non può rifiutarsi di riceverli. Lì riceve, gli spiega che l'intendimento di questa amministrazione è diverso rispetto alle loro esigenze e ne prende atto anche perché giustamente siamo in un paese democratico poi la gente saprà regolarsi nella prossima scadenza elettorale su quale amministrazione, su quale schieramento politico votare e su qual è il programma che hanno portato avanti. Certo, rispetto a quello che abbiamo sentito dalla sindaca Raggi adesso in trasmissione, le attività e l'indirizzo che il municipio sta portando avanti mi sembrano completamente all'opposto rispetto a quello che abbiamo ascoltato e quindi sicuramente bene hanno fatto a inviare per email al sindaco o alla sindaca Raggi. Però sembra che anche lei non risponda. Quello è un altro problema perché il sindaco oltre a non rispondere purtroppo evita qualsiasi tipo di confronto perché le uniche comunicazioni che abbiamo le abbiamo tramite dei video che vengono inserite in un circuito di social network dove non c'è un contraddittorio, non c'è un confronto ed è questo che secondo me continuerà ad allontanare la gente da questo modo di far politica che è abbastanza, ripeto, io penso che ci siano grossi questioni che vadano chiarite da un punto di vista legale e tecnico perché secondo me una delibera non si annulla senza una motivazione, motivazione tecnica e non politica. Poi c'è un problema di fondo ancora più importante che quello che sicuramente questa cosa al di là del numero degli iscritti del centro anziani porterà sul territorio perché ritornare in quel posto, contestava il numero degli iscritti, sono intorno ai 600, secondo il municipio sono 300, io sfido qualsiasi architetto urbanista a mettere 300 persone dentro 145 metri quadrati, ad animare qualsiasi tipo di attività. No, 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 ma non è possibile. I centri anziani io vedo che si fanno la ginnastica passiva la mattina, i corsi di computer, la partita a carte che può essere per alcuni considerata un aspetto molto poerile, ma una cosa fondamentale per le persone. Ma poi abbiamo detto prima che bisognava essere accompagnati dai parenti, quindi c'erano una serie di limiti insopportabili, sappiamo come finirà, se 5 Stelle farà questa ingiustizia e sposterà il centro anziani, avremo molti anziani che preferiranno rimanere a casa, rimanere a casa e rimanere soli, questo implica malattie, costi per la pubblica amministrazione, sarà un'altra politica per creare degrado, no? Quanto degrado avete al vostro municipio? È tantissimo il degrado che abbiamo giù, è un centro anziani come quello di Pierini e Midi che svolge una funzione così importante di raccordo tra giovani, come diceva prima Antonello, che loro fanno quello, un raccordo fra giovani e adolescenti e noi quarantenni, diciamo, loro nelle famiglie, se andiamo ad analizzare proprio, è proprio l'anziano che fa da raccordo, il nonno che fa da pacere, come si dice a Roma, fra il papà e il figlio. Mi sembra un'altra amministrazione che, se scordi della periferia, che l'impressione ha? Soprattutto l'educazione, con un anziano, un giovane che si confronta con un anziano, l'educazione che nella zona non c'è, con l'anziano vicino cambia tutto, cioè l'anziano è saggio, l'anziano è la persona che ti segue. Allora, la scienza del lavoro fa il tifo per voi, io manderò poi il video al Presidente Romarello e chiederò se vuole essere intervistato perché mi dovrà chiarire la sua posizione rispetto a tutte le prove che avete portato oggi. In senso della tradizione chiederei un'ulteriore disponibilità da parte, forse sarebbe il caso di andare a visitare il Centro Anziani anche con una troupe per vedere sia le immagini del vecchio Centro Anziani e sia le immagini di quello nuovo per vedere anche l'attività che viene svolta. Devo chiudere perché ho sforato veramente troppo, no non ce la faccio Presidente, mi porti gentilezza. Era molto importante, che cos'è? Che Finocchio è pieno di problematiche, dalle buche alla delinquenza, strade ancora senza fogna e senza acqua potabile e sembra che il problema più importante fosse stato il Centro Anziani, fatto con commissioni a delibera in dieci giorni. Sì sì, era forse una promessa elettorale o costava di meno farlo. Io vi devo salutare, ringrazio Nerole Gemma, ringrazio il Presidente del Centro Anziani Perino Emili, Franco Grimolizzi, ringrazio il Vice Presidente del Coordinamento dei Centro Anziani di Roma, Enrico Di Pietro, ringrazio Andrea Sbardella, segretario romano della DC, ringrazio Temmiano Zaccaretti, responsabile e coordinatore del Sesto Municipio per Forza Italia. Grazie. Grazie a voi, c'è la sera è finita, come al solito, venerdì e la domenica è replica a mezzogiorno. Grazie a tutti voi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.